Bentornati cari ascoltatori di Radio Puggini On Air, come sempre il nostro appuntamento con i nuovi singoli ed album in uscita e vi annunciamo un nuovo album per Alessio Tognini, un'artista di cui già abbiamo parlato poco tempo fa anticipato questo nuovo album con il singolo Simba Nala di cui abbiamo parlato in una puntata precedente di Radio Puggini On Air che potete rivedere sul mio canale YouTube. Dunque come Un Re Leone, il nuovo album di Alessio Tognini il quale si ispira al film famoso della Disney che tutti noi conosciamo. Alessio Tognini ci ha rivelato che l'uscita di questo album è prevista solo su Audio Mac per cui collegatevi con Alessio Tognini e i suoi siti, i suoi social, seguitelo per essere aggiornati su ogni novità che riguarda il suo nuovo album come Il Re Leone che finalmente potremo ascoltare tra pochissimi giorni il prossimo venerdì 29 marzo 2024. Dunque da venerdì prossimo solo su Audio Mac come Il Re Leone, il nuovo album di Alessio Tognini. Noi ci ascoltiamo presto per altre novità musicali qui a Radio Puggini On Air.